Praticare attività fisica regolarmente è una buona abitudine. Vale anche per chi ha la fenilchetonuria? Assolutamente sì, è un'ottima abitudine per la popolazione generale e anche per i pazienti affetti da fenilchetonuria. In realtà la nostra è una popolazione molto sedentaria e l'OMS quindi ha dovuto mettere in pratica una serie di raccomandazioni per un'attività fisica minima raccomandabile sia giornaliera che settimanale. Ma ahimè l'Italia ma anche coerentemente con altri paesi europei non svolge attività fisica in maniera importante. Per cui probabilmente anche per questo retaggio sociale anche i pazienti affetti da fenilchetonuria pur non presentando delle disabilità neurocognitive importanti e quindi delle limitazioni fisiche svolgono attività fisica soprattutto intensa in maniera non significativa. Abbiamo valutato questo nella nostra popolazione di pazienti sia a dieta priva di fenilalanina e che a dieta libera e lo abbiamo riscontrato e confermato rispetto ad altri studi europei che valutavano in maniera abbastanza aneddotica in realtà l'incidenza dell'attività fisica sia sportiva che attività fisica moderata e intensa in questi pazienti. Ancora dobbiamo lavorare su questo fronte. È importante incoraggiare i pazienti e le famiglie a svolgere attività fisica che riduce il peso in generale della malattia in questi pazienti, aiuta la socializzazione, migliora la qualità di vita e quindi non ci sono limitazioni fisiche a che questi pazienti possano svolgerla, incoraggiamoli a farlo.